Cent'anni fa nasceva Henry Henrys, fotografa olandese che si ispirò alle opere di Van Gogh, oggi protagonista di una rassegna fotografica presso il Van Gogh Museum di Amsterdam. I suoi scatti sono accostati alle opere del pittore qui di casa, sono immagini catturate viaggiando attraverso i luoghi abitati raccontati da Vincent con le sue pennellate tortuose, e un rincorrersi di alberi, barche, viandanti e rive, definiti da un lato dalle composizioni pastose del pittore, dall'altro dal lineare obiettivo dell'artista. E come Van Gogh ha dipinto l'onesta normalità della gente comune al lavoro, anche Henrys ha saputo immortalare i volti delle persone incontrate per strada, donandogli una propria identità.